Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Ieri sera come sempre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. In seguito, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo. Durante la puntata di Affari Tuoi, Luis, dalla Valle d'Aosta, ha trionfato vincendo ben 200.000 euro, una somma che ha fatto scalpore e ha lasciato molti telespettatori a bocca aperta. La vincita di una cifra così alta, durante la serata di lancio di un prodotto di punta come Don Matteo, ha sollevato qualche sopracciglio. Se da un lato si tratta di un evento fortunato, che ha reso la serata ancora più memorabile per Luis, dall'altro ha alimentato sospetti tra alcuni telespettatori e addetti ai lavori. Molti si sono chiesti se si sia trattato di una semplice coincidenza, o se ci fosse una strategia dietro questo accadimento, alimentando così un dibattito interessante sui social. Le reazioni sui social media sono state varie. Alcuni utenti hanno espresso il loro entusiasmo per la vincita, sottolineando l'importanza di momenti del genere nella vita di un concorrente. Mentre altri hanno manifestato dubbi sulla casualità della vincita, insinuando che potesse essere stata pianificata per creare un evento mediatico. La questione ha riacceso l'interesse per il format di Affari Tuoi, che continua a dimostrarsi capace di attrarre l'attenzione del pubblico non solo per le sue dinamiche di gioco, ma anche per gli eventi che lo circondano. Secondo voi, si tratta di un caso fortunato o di un evento orchestrato? Grazie a tutti.